Vai, pia il telefono, vai! E appunto, poi capirete che... Che cazzo di zoom? E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale Seconda missione di GTA IV Il nostro videogioco retro Che ho deciso di portarvi E anche se vi siete rotti i coglioni di sentirvelo dire Attaccatevi veramente al cazzo Perché è il mio gioco preferito Nella prima missione abbiamo fatto questo sbarco in America Abbiamo incontrato, anzi rincontrato il nostro cugino Roman E abbiamo ottenuto la nostra prima prima casuccia E ci siamo andati anche a mangiare un piccolo dog Ecco, così Nella seconda missione ovviamente saremo ancora al servizio di nostro cugino E però vorrei veramente farvi vedere tutto in diretta Quindi vorrei veramente lasciare da parte le stronzate e passare direttamente al gioco Ok, sì, grazie, questo lo sapevo, grazie mille Allora, devo andare da Roman che effettivamente non è neanche poi così lontano Però, boh, voglio prendere una macchinetta, scusate Ne ho veramente urgentemente bisogno Veramente urgentemente Ho tipo messo due avverbi insieme Si vede che proprio a scuola non studiavo un cazzo E la cosa divertente è che non mi hanno mai bocciato E neanche rimandato Daga, non curvano un cazzo queste macchine qua Non curvano una sega Mamma mia Tanto sto diventando praticamente sordo Ok, eccoci arrivati da Roman Vediamo cosa ha da dirci It's your call Questo capitolo di GTA 4 Ha i titoli in inglese Mentre GTA 5 ha i titoli in italiano Me lo ricordo Richiesta di amicizia Qualcuno ha detto yoga Punto di impatto Che poi in realtà si chiamava derailed in inglese Vabbè Forse però Chiamandone con il nome originale Non so perché Mi fa più sentire dentro la storia Non so come dirvelo Comunque sì ragazzi Questo è Mallory Questo Questo sì È luna di nota anche per me Oh Vlad Che personaggio Io penso che Vlad sia Il predecessore Bosniaco Croato Serbo Di Trevor È proprio È il Trevor dell'est Chiamiamolo così Anche se non è sudicio come Trevor Anche perché per essere sudici come Trevor Veramente Bisognerebbe mettersi L'impegno ma veramente bene Sì però Brutto Porco Ubriaco Sì ragazzi È Decisamente Trevor Sì ok Però stai calmo Fantastico Chi è che diceva Fantastico Forse è l'alta fini Questo è un golasso Fantastico Non ricordo Scrivetevi per favore nei commenti Chi è che diceva Fantastico Comunque sì ragazzi Prima missione Ah il famoso negozio di ferramenta Sì ma chi se lo scoda ragazzi Mi ricordo ogni missione a memoria L'ho finito una decina di volte GTA 4 Quindi Non ricordo un cazzo All'inizio Però poi Man mano che faccio le cose Ricordo addirittura i dialoghi Ovvio che quando sei più piccolo Apprendi le cose con più facilità Rispetto a quando hai la mia età Ma quelli sono Dettaglioni L'unica cosa che mi lascia un po' così È Queste macchine Che sono Altamente Inguidabili Ah ok Tipo adesso ci da il telefono Che in realtà Già abbiamo Però diciamo che questa è la prima volta Che ci sarà utile E quindi vi ho dato un piccolo spoilerino Questa dovrebbe essere la missione In cui ci seguono Se non vado errato Però Prima di spare una stronzata Ah ok Cioè freno a mano Curva a botto Cioè proprio Ti fa fare il 360 Come lo sfiori Il freno normale Non curva un cazzo Ok gioco bilanciato benissimo Vabbè Ripeto Il 2008 Pazienza Vai Pia il telefono Vai E appunto Poi capirete che Che cazzo di zoom Che cazzo di zoom Perché 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 Però ecco Stavo dicendo Poi capirete che Forse Fagli del mare Era meglio Comunque abbiamo Un numerino Solo in rubrica E ragazzi Io mi sto divertendo Di più A giocare A questo gioco Che a giocare Ad Assassin's Creed Valhalla Ad esempio Mi sto divertendo Veramente un casino Cioè sono tipo Un bambino Al parco giochi Giuro E li sentite 60 fps Se giro così Li sentite Questi Gli stronzissimi Rispondiamo Beh ovviamente Lui va a farsi Cazzi suoi Noi non potevamo Parcheggiare e scendere No Ce l'ho aspettare qui Va bene Va bene Oh c'era Già l'animazione Che metteva la mano Sul clacson Si Questa è la visuale Giusto Ok Eccoli 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 i nemici Oh giusto Suono del telefono Ragazzi Piango Piango Giuro Ovviamente Spariscono dietro la porta Dai Roman Dai Roman Su 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 Non fai del male Però loro possono farlo a noi Fantastico Ok vabbè Ok vabbè Dopo Tutto il GTA online Che ho fatto Penso che Scappare da quei scagnozzi Alla seconda missione Sia anche assai semplice La polizia No che palle Frena 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 un cazzo Frena un cazzo Cioè io loro li ho seminate A dir la verità Ciò che non frena un cazzo Frena Frena Ma mia ragazzi Tenuta di strada Del mia Del mio scrotto C'è la tenuta di strada Sta macchina Vabbè Comunque siamo arrivati a destinazione Missione difficilissima È veramente Veramente Difficile Sì 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 Voglio salvare Grazie Certo Certo Come dimenticarsi Di certe cose Va bene No Trapassing Violetors Will be Prosecuted You must show ID to enter These Permisses Tiene che Insegnar Su identità A entrare E ste proprietà Io passo Non mi fanno Un'emerita Siga Ovviamente Qua Non c'era ancora Il potenziamento Veicoli Cosa che è venuta fuori Su GTA V Quindi diciamo Che a parte Cambiare il colore Al Come si chiamava Paun e spray Una cosa del genere Paint spray Non puoi fare Più di tanto I potenziamenti Sono venuti fuori Col capitolo successivo E Capisco Capisco La cosa divertente È che io Ho Il 30 fps Sullo schermo secondario Su cui sto giocando E il 60 Sullo schermo principale Meglio così Verrò Verrò Roma Verrò Verrò Bene Che posso fare Per concludere Il video in bellezza Fatemi pensare Posso farmi investire No ma Nico è duro a morire Nico è duro a morire Comunque Comunque raga Ste texture Bruttissime Sono tipo In 144p Bene Sì Una cosa in mente Ce l'ho E magari Comparmi Con 55 dollari Qualcosina Non posso Comparmi Niente Non ho ancora Sbloccato lo store Che palle Lo sbloccherò Più avanti Posso bere qualcosa Una valata Se voglio No sti cazzi Porta con la texture Va bene Prendo uno dog Basta Ci rinuncio Give me one of those Ma è stronzo Due morsi E ovviamente Il sandwich Scompare Nel nulla E ragazzi Con questo Con questa Corsa di Nico Posso anche Annunciarvi La Bellissima Fine Di questa Seconda missione Mi permetto Tranquillamente Di definirla Una cagata Di missione Però Il meglio Deve ancora Venire Cantava Luciano Ligabue E quindi Ragazzi Io Vi ringrazio E noi ci vediamo Per la terza Missione Che sarà Molto Molto Interessante Sempre con Roma Ragazzi Lasciate Like al video E iscrivetevi Al canale Mi raccomando Ragazzi